La premier Giorgia Meloni oggi rientra dalla missione Washington Toronto per approdare domani in Abruzzo. Il primo ministro sarà a Pescara per il comizio elettorale del centrodestra a sostegno di Marco Marsiglio Presidente con Salvini e Tajani. Si fa sentire un po' il timore per i sondaggi sulle regionali dopo lo scontro col Colle. La partita è davvero apertissima. Siamo stati in grado di costruire un'alleanza forte e radicata non solo con il Movimento 5 Stelle ma con tutte le forze di opposizione. E' quanto afferma intervistato da Repubblica Giovanni Legnini, già sottosegretario a Palazzo Chigi ed ex vicepresidente del CSM, parlando appunto del voto in Abruzzo. A rincarare la dose è il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. In un'intervista ad Abruzzo Web l'ex premier parla di rimonta in corso. Ho trovato un grande e crescente entusiasmo intorno a Luciano D'Amico. Gli abruzzesi vogliono voltare pagina. E nel mirino finisce la Roma Pescara dove il jacuzzo dei pentastellati e dei democrat è quello di aver tagliato fondi mentre ora, a pochi giorni dalle elezioni, arrivano promesse elettorali. Avere il primo ministro Giorgia Meloni al mio fianco è un vero privilegio e lo è anche per l'Abruzzo che lei ha scelto come suo collegio elettorale. La nostra amicizia va oltre la politica, commenta sui social Marco Marsilio. Dunque il conto alla rovescia è partito insieme all'ultima settimana prima dell'appuntamento con le urne dove gli abruzzesi sono chiamati ad esprimersi.